il nostro avversario quello che ci aspettiamo tatticamente è un 4-3-3 intanto via il match con il primo pallone per i ragazzi in particolare tantissimi giocatori del nord Europa con origine può ripartire la squadra rossonera, polpo di tacco di Scotti, bella azione Milan con l'Aziti sono i Lilali e Longhi a quota 6, Ciacatro Re a quota 5, tutti infortunati tale per noi per metterci una pezza, l'Azetic, area di rigore in mezzo a 3 va direttamente verso l'Azetic palla rimessa per Civisa che viene a giocare dove c'è anche l'Azetic al distruttore punta Gabri, area di rigore, Bozzolan, può arrivare il cross per l'Azetic 2-0 Milan, azione perfetta alla mano, reggbistica da una parte all'altra, assist di Bozzolan tocco facile facile di Marte con prestazioni parole poi rilancio dove c'è l'Azetic di testa il perché del fischio dell'arbitro è quello qua che li vediamo ha fatto molto molto bene intanto l'Azetic, area di rigore, ancora l'Azetic raddoppio, raddoppio per quanto riguarda le sue marcature Triss invece per il Milan e diciamo che al minuto 35 la partita è messa sui binari migliori Guerini pressato da L'Azetic, tiene il pallone corpo a corpo tra i due avanti poi l'Azetic punta l'area di rigore la palla che passa, l'Azetic sul secondo palo controllo non per provare a ripartire l'Azetic recupera con un fallo però Antonino Costanza che è l'arbitro del match inquadrato sta per dare il via all'ostilità e via al secondo tempo con le stagioni fa il Milan da quel momento in poi non ha mai fatto solo in Coppa Italia Primavera qui la grande azione, Scotti, area di rigore il Mascotti, arriva anche l'Azetic che lo va con il mancino in avanti dove c'è l'Azetic che controlla vacune per l'Azetic, cerca di andarsene l'Azetic doppia finta, si libera del posto di Bozzolan che sta facendo sentire sugli avversari bene qui l'Azetic ancora lì di testa a gala per l'Azetic che la mette giù poi Lukasz Podolski tedesco di chiare origini polacche golare contro Guerini l'Azetic aspetta i compagni poi se ne va sul sinistro l'Azetic tripletta di Marco Lazetic che è giocata e gol con il sinistro del ragazzo serbo che va a triplicare le marcature cambio Atalanta e partita che finirà con questi effettivi per altro ragazzo cresciuto nel settore giovanile pur essendo di origine triestina qui l'Azetic a cercare l'Azetic si preva omoregbe di testa per l'Azetic ancora l'Azetic che se ne va in mezzo a due palla che restura poi tripletta fragorosa di Marco Lazetic che sta